La grave crisi alimentare che coinvolge i bambini afghani in un paese colpito dalla siccità rischia di peggiorare gravemente a causa della sospensione degli aiuti, mettendo a rischio migliaia di vite. Questo è l'allarme lanciato da Save the Children. L'Afghanistan già prima dell'avanzata di tale bagnere al secondo paese a livello globale per numero di persone colpite dall'emergenza fama e malnutrizione. Secondo le stime, entro quest'anno la metà dei bambini al di sotto dei 5 anni nel paese è a rischio di malnutrizione acuta e avrà bisogno di trattamenti specifici per poter sopravvivere.